Della stampa che svolge un ruolo importante, fondamentale per la città e anche per chi deve comunicare ciò che fa la città è un ruolo fondamentale anche per creare una dinamica positiva e percosa nelle relazioni tra gli attori e della comunità territoriale. Voglio veramente salutare con molta sincerità anche questo avvio della nostra consigliatura con un ringraziamento per l'attenzione ovviamente con cui svolgete il vostro lavoro ma anche per essere un elemento che sta contribuendo ad una serenità del clima che come amministratore in senso lato non solo come giunta ma in generale come protagonista della politica locale stiamo riscontrando in questi mesi, frutto di tanti fattori, ovviamente questo è frutto di, abbiamo detto tante volte, un territorio che si è ricomposto, un clima nuovo tra i sindaci, frutto di un cambio del diciamo di amministrazione comunale per cui alcuni attori, come dire, i nuovi stanno prendendo confidenza con uno spirito magari diverso da qualcuno che è stato più protagonista in passato ma sicuramente è merito anche del ruolo che svolge la stampa perché evidentemente come dire anche la stampa stessa è protagonista della creazione del dibattito pubblico, in qualche misura ne è il sale, è quello strumento che può dare più o meno peso o evidenziazione alle notizie con un'enfasi diversa, è inutile che approfondisca, ci siamo compresi e credo che in questo momento ci sia davvero un clima molto positivo in città, che è positivo per la nostra comunità e di cui anche, come dire, la serietà della vostra, di come state svolgendo diciamo con la vostra professione è un elemento molto importante e questo ovviamente non significa per l'amministrazione comunale, come dire, pensare che la stampa non sia anche ovviamente l'organo di risalto di posizioni diverse dell'opposizione, anche di contrasto con la linea dell'amministrazione ma il modo con cui state leggo, prendo, state svolgendo il vostro lavoro aiuta per la serietà a tenere un clima in cui anche la politica si confronta e non si scontra, mettiamola così.